Signor Assessore, Presidente, caro Alberto e cari amici e soprattutto voi, persone che siete venute da Firenze e da lontano, per parlare di questo argomento estremamente importante. Il professor Bosi è partito da vicino, è partito dai medici, io vorrei partire molto più da lontano, vorrei partire niente meno che da Gengis Khan, Tamerlano, Alessandro Magno, i quali evidentemente prima delle vittorie che conseguivano facevano delle battaglie strepitose, ma le preparavano, le studiavano, ecco vorrei porre l'accento sulla parola studio del nemico. E questo studio era uno studio fatto a occhio nudo, poi noi abbiamo invece i padri famosi che ci ricordano l'ammiraglio Orazio Nelson, ci ricordano Napoleone, che guardano, anche loro studiano il nemico con qualche cosa in più, non a occhio nudo, ma con il cannocchiale. E infine una battaglia estremamente dolorosa per la marina militare italiana, la battaglia di capo Maffatan, che fu persa clamorosamente e con essa il predominio nel Mediterraneo perché gli inglesi avevano uno strumento di studio che noi non avevamo e che era il radar. Noi facemmo, oscurammo tutto con fumogeni, ma nonostante questo gli inglesi riuscirono a colpire tutte le nostre navi. E allora ecco, tutto per dire, voi l'avete già capito, che lo studio è fondamentale prima di una battaglia. È fondamentale perché questa battaglia si trasformi in vittoria. Ecco, chi è che ha cominciato a studiare per primo? Ma voi vedete appunto John Bennett, Virkos, Conan Doyle, i quali praticamente furono colpiti da questo quadro clinico così particolare, così peculiare, che era quello dell'eucemia mieloide cronica. E furono colpiti dal fatto che c'erano organi ingranditi, milza, addirittura anche linfonodi, perché erano situazioni certamente molto avanzate. Ma di tutto questo, ecco, a me sembra che spicchi la figura, e non a caso è centrale, non solo per un discorso di tempo, di Rudolf Virkos, il quale al di là dell'osservazione di questi pazienti, intuì e sostenne con decisione che si trattava di una malattia tumorale, mentre per gli altri era un qualche cosa di reattivo. Successivamente abbiamo visto che questa ispezione del malato era un qualche cosa di complessivamente modesto. E invece, ah grazie, invece era importante poter vedere queste situazioni con il microscopio e poi anche senza il microscopio. La prossima, per favore. Ecco, questo è con il microscopio, cioè la grande quantità di cellule che erano state viste. E allora è ovvio che di fronte a questa grande quantità di cellule è ovvio che si pensasse a distruggerle nella maniera più... grazie. Nella maniera più energica possibile. E queste maniere furono... si trattarono arsenico inizialmente, poi niente vecchi merletti, solo arsenico, ma poi radiazioni ionizzanti. Poi dopo altri farmaci, il dimetansulfonossi butano, poi un farmaco ancora che era più maneggevole del busulfano, appunto, che è il nome internazionale del dimetansulfonossi butano, e che era la idrossiurea e che molti avranno già o sperimentato, o di cui sicuramente tutti hanno già sentito parlare. Ma farmaci che non hanno poi ottenuto granché, perché miglioravano molto la qualità della vita, ma non miglioravano significativamente la sopravvivenza dei malati. Questo è il nocciolo importante. perché la malattia grave non è quella che è nel momento in cui si scopre. La malattia grave diventa nel momento in cui la malattia si evolve in una forma acuta. Ecco, tutti questi farmaci non riuscivano a prevenire quello che è il nocciolo duro della malattia, e cioè la trasformazione in una forma acuta, nelle sue varianti. Qualche volta, attraversando una fase di accelerazione, ma non sempre, qualche volta trasformandosi rapidamente da cronica in acuta. Allora ecco, credo che a questo punto bisogna intervenire, la prossima, grazie, con la dimostrazione da parte di Nowell e Hungerford di questo cromosoma piccolo piccolo che a un certo momento è stato molto importante, cromosoma Philadelphia perché fu trovato nella città di Philadelphia, perché è un marker tipico della malattia. Una storia molto brutta, ma molto importante, è quella di una laborantin che si trovava nel laboratorio di professor Lejeune a Parisi, che quando furono sistemate le tecniche per mettere in evidenza il cromosoma Philadelphia e dovevano allora fare un esame del midollo osseo, ecco, fu trovato in una laborantin perfettamente sana nel cromosoma Philadelphia. Dopo tre anni la laborantin si è ammalata di Leucemia Miloide cronica. Ecco, questo a me sembra che sia un dato molto significativo perché ci dice quanto praticamente questa situazione preceda la insorgenza clinica della malattia. Ma che cos'è questo cromosoma Philadelphia? E qui interviene dall'ematologia con il microscopio dentro le cellule e dall'ematologia senza microscopio. ed è questa ancora per favore la storia di Raleigh della Raleigh la quale ha dimostrato che attraverso uno scambio di materiale genetico tra il cromosoma 9 e il cromosoma 22 si verifica praticamente la formazione di un costrutto genico che è praticamente il cromosoma Philadelphia il quale cromosoma Philadelphia ha un potenziale diciamo significativo nella patogenesi cioè nell'evolvere nel determinismo della malattia in quanto provoca una attivazione fissa permanente di una tirosino chinasi che praticamente a sua volta determina la leucemosenesi cioè la formazione della leucemia e allora ecco mi sembra che sia molto importante pensare che tutto quello che è rivolto contro questa tirosino chinasi è significativo per poter curare la malattia curare la malattia forse per guarire la malattia la prossima diapositiva per favore alcuni farmaci di questo il paradigma e i matimib sono stati molto significativi perché si è visto che bloccano l'azione di questa tirosino chinasi e quindi bloccano la possibilità di queste cellule di rimanere leucemiche un farmaco estremamente importante che è stato poi seguito da altri ma comunque estremamente altri ecco i matimi io credo che ne parli se parli lei dopo appunto anche la particolarità di panatinib ma di questo credo che ne parlerà la dottoressa Scappini o la Gozzini non so bene che cosa è successo dopo la scoperta di questi farmaci ecco questo io credo che sia estremamente importante loro vedono da questo lavoro recente pubblicato nel journal clinical oncology Bauer vedono le aspettative di vita praticamente in quanto questi malati l'aspettativa di vita di questi malati si dissocia perde chance di essere uguale a quella che è l'aspettativa di vita legata all'età ecco e vedono praticamente che si ha una riduzione drastica dagli anni tra gli anni all'inizio degli anni 1990 2000 e 2010 di questa di questo discostarsi dei malati dalle aspettative di una vita normale praticamente si arriva a valori che sono altissimi cioè in pratica queste diapositive sia per gli uomini che per le donne indicano che c'è una malati con lefemia mieloide cronica che prendono a questi farmaci un'aspettativa di vita che è molto molto simile a quella che è l'aspettativa di vita di una persona senza lefemia mieloide cronica e questo credo che sia francamente una grande enorme vittoria ma ecco la vittoria di una battaglia o la vittoria definitiva di una malattia ma forse diciamo a questo punto il più delle volte è un armistizio cioè praticamente si riesce a curare a fare stare benissimo i malati a dare questa aspettativa di vita che è praticamente quella di una persona normale ma non si riesce a guarire perché abbastanza spesso grosso modo in più poco più di metà dei pazienti abbiamo che quando si è avuta la scomparsa completa di tutto sia dell'aumento dei globuli bianchi sia del cromocellere con cromosoma di Philadelphia sia con i marker molecolari praticamente con i quali noi si fanno delle indagini estremamente più sottili che scompaiono tutti o arrivano a valori che sono assolutamente trascurabili ecco se si sospende il farmaco in una percentuale di casi che ancora deve essere stabilita perché certamente non abbiamo ancora una sufficiente esperienza per poco tempo alla fine in cui sono venuti fuori questi farmaci la malattia ritorna devo dire che a grande vantaggio quando noi si seguono i malati a cui si è sospeso il trattamento e si ha una ricaduta molecolare solo molecolare della malattia a quel punto riprendendo il farmaco praticamente la situazione si ritorna e si riprovocare una seconda volta la scomparsa completa di tutto però ecco per questo dicevo si tratta di una vittoria molto importante ma molto importante ma di una battaglia e non di tutto perché perché il cuore della leucemia miloide cronica come il cuore dei tumori in genere non è quello che noi vediamo non è quello che fa male non è quello che cresce ma è quello invece che sta subdolamente all'interno della malattia cioè la cellula staminale e io credo che la vera vittoria noi riusciremo a farla su delle leucemie e probabilmente su tumori a dimostrazione che l'ematologia è come diceva Jean Bernard science pilote scienza pilota per tutta l'oncologia ecco io credo che praticamente se riusciremo a capire perché la cellula staminale della leucemia miloide cronica in gran parte o in tutto o quasi in tutti ma comunque rimane molto meno sensibile al trattamento con questi farmaci inibitori della tirosina chinasi ecco io credo che se riusciremo a capire bene questo avremmo veramente allora trasformato l'armistizio in una vittoria vittoria non solo per questa malattia ma una vittoria praticamente per tutte le malattie tumorali grazie 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 grazie